Yuki lui è il secondo della cucciolata che abbiamo preso a 5 toni la storia l'abbiamo raccontata nel primo video che abbiamo fatto lui è Yuki un maschetto, mi sembra che uno, un maschetto perché gli altri sono due due maschi e due femmine due quindi non mi ricordavo bene quindi sono due maschetti e due femmine che dire, sono una meraviglia fa caldo, giocano, scavano, fanno le buche sono dei bimbi, i bimbi fanno così ogni tanto li dobbiamo rimproverare ehi cosa stai facendo, dove vai, vieni qua noi con loro, almeno io mi comporto in questo modo li trattano come bimbi e quindi cerchiamo per lui una mamma come la cerchiamo per tutti e quattro che presenteremo ha degli occhi bellissimi, ha un carattere dolce e poi lui adora essere coccolato, adora essere preso in braccia non gli va quando lo togliamo dal box lui quando esce dal box la cosa che fa si mette in guardia con gli occhietti dove sono, dove mi state portando non voglio andare dal veterinario perché in genere quando li portiamo fuori dai box loro vanno dal veterinario a fare le visite agli vaccini per determinarli, controlli, pulire le orecchie insomma vanno e quindi vanno spesso e allora quello che pensa è questo qua comunque, vanno alle chiacchiere lui è bellissimo, dolcissimo, è amorevole è di una dolcezza infinita diciamo che è stato fortunato che l'abbiamo trovato con la sua mamma insieme alla sua mamma e ai suoi fratellini se loro a quest'ora non si sa che fine avrebbero fatto avrebbero fatto perché erano in quattro e la mamma cinque che ora la mamma è qua, eccola qua che ci guarda e dice cosa fate a mio figlio niente, niente, non gli facciamo niente e quindi cerchiamo per lui una famiglia una famiglia dolcissima, una famiglia che lo renda felice che gli farà passare tutta non nella cattiveria dell'umano perché per fortuna non hanno avuto non hanno avuto l'occasione di conoscere gli umani e allora diciamo conoscono noi e sua mamma e meno male che non conoscono gli altri perché altrimenti chissà cosa penserebbero del mondo ora cerchiamo di dargli una vita degna, meritevole che meritano perché se sono nati, perché se sono qua hanno bisogno di essere adottati essere coccolati ed essere amati che dire sui cani c'è poco da dire i caratteri sono tutti ognuno ha il suo carattere ognuno ha il suo modo di fare ognuno ha i suoi occhietti bellissimi ehi che c'è? quindi ve lo presentiamo cosa madroncino diciamo che più madroncino è caffè e latte non arriverà più di 10-12 kg una taglia media contenuta quindi può avere un giardinetto può stare in casa può stare su un divano può aspettare la mamma a casa nella sua stanzetta può fare di tutto quindi affrettatevi più che affrettatevi quando voi condividete loro partono se voi non condividete loro non partono ok quindi vi vi prego di condividere e e di pensare che anche loro hanno bisogno di una mamma che anche loro hanno bisogno di affetto che anche loro hanno bisogno di essere sfamati e anche educati perché come si dice i figli come li impari crescono e quindi anche loro se loro crescono bene e crescono con l'amore nel cuore e perché noi glielo trasmettiamo e noi li amiamo e gli facciamo tutto quello che gli facciamo gli diamo tutto quello che hanno bisogno ok lui già mi sono dimenticato il nome avevo io un amore il what la cosa bella è che in quanto mettiamo la mano nel cuoricino batte 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 di amore è vero ok un saluto a tutti da Yuki e quindi condividete condividete che qua fa caldo condividete che io non voglio fare sempre buche e mettermi al fresco ok ciao a tutti ciao ciao voglio andare nel mio box ciao mamma vieni presto ciao